Cresce il numero dei soggetti coinvolti nell'operazione antidroga carte false eseguite dai carabinieri dei comandi provinciali di Agrigento e Catania lo scorso 29 marzo. Lucio Setola, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia del capoluogo etneo, ha emesso cinque nuove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti a vario titolo responsabili di associazioni a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e produzione, traffico e detenzione illecita in concorso. In manette sono finiti il 49enne Gian Maria Corsaro, i 28enni Alberto Cutrona e Marco Musumeci, il 31enne Alessandro Sciuto ed il 29enne Salvo Musumeci. Gli arrestati sono stati trasferiti nelle case circondariali di Catania e Caltagirone. Ricordiamo che l'operazione dello scorso 29 marzo portò all'esecuzione di 50 misure cautelari. Le relative indagini avviate dalla compagnia Carabinieri di Licata fecero luce su un vasto traffico di droga che da Catania veniva spacciata nei locali notturni della fascia tirrenica estesa da Taormina, la città del Faro. L'operazione venne chiamata dagli inquirenti carte false perché l'associazione si era specializzata anche nella falsificazione di documenti di identità allo scopo di aprire dei finanziamenti nei centri commerciali per l'acquisto a rate di apparecchi elettronici, materiali che poi venivano rivenduti o scambiati con la droga.